Se stai cercando una bella soluzione da acquistare con una sala grande, la cucina abitabile, due camere da letto, una matrimoniale e una grande doppia, bagno finestrato, possibilità di creare il secondo bagno nella lavanderia, tre balconi, cantina, garage in un bellissimo contesto, beh, fermati perché ho trovato l'appartamento giusto per te. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in via Mezzarisa, tra via Lapi ed il Ponte Rosso e questo appartamento si trova al piano primo rialzato di una piccola palazzina di sole 6 appartamenti con un bellissimo giardino comune. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!